Buongiorno e bentrovati dai nostri studi di TG Razz Live 24, studi scientifici di natura mondiale per capire i misteriosi motivi secondo i quali i gatti dormono tutto il giorno. Non si capisce ancora infatti perché essi non facciano dormire gli umani la notte ma ci spiega meglio le cose il nostro inviato. Grazie per la linea. Rimangono tuttavia misteriosi i motivi per i quali i gatti dormono tutti i giorni. Alcuni scienziati che dimostrano che i gatti sono sempre appollaiati fra un letto e un termosifone. Come potete vedere non fanno altro che dormire tutto il giorno. Gli scienziati stanno conducendo infatti degli esperimenti per capire se si tratta di una normale condizione di pigrizia o se c'è dell'altro ma adesso restituisco la linea. Quel mazzolin di fiori. Parlami d'amore, Mariù. Finché la barca va, lasciala andare. Sono solo alcuni dei tormentoni che la vicina del piano di sopra canta a tutto il giorno. Il servizio del nostro inviato. Buongiorno dal vostro inviato in casa. La vicina canta a tutto il giorno. Al mattino specialmente è un piacere sentirla. A voi la linea studio. Il dramma domestico per il Maus che stava rischiando la vita ma lo stesso è stato aggiustato da un importante comitato tecnico di livello internazionale. Ci spiega meglio le cose di inviato. Un attimo di distrazione e il Maus è caduto per terra. Ci sono stati dei momenti molto ma molto drammatici. Sono arrivati i soccorsi dopodiché non si capiva che cosa fosse. Forse un arresto elettromagnetico cardiocircolatorio. Anche per questa edizione è tutto. Vi saluto.